Un saluto cari amiche e cari amici, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. La palla di pelle, rassegna stampa di oggi, primo settembre, e che rassegna stampa? I giornali vanno sulla partita di ieri, al limite i 90 minuti sono la cosa che è diventata la meno importante, l'assenza di Ibra, hanno scritto che fosse in vacanza o che sia in vacanza. Il cooling break con l'assenza dei due giocatori, l'abbiamo messo anche noi la fotografia nella copertina, entreremo, darò la mia opinione, nel video del pomeriggio e capiremo, è una situazione, è una situazione, ho già un'idea del titolo di oggi, ho già un'idea delle mie, di quello che penso di dire su una situazione che è veramente paradossale, incredibile, unica, non la ricordo nel Milan, forse non la ricordo perché quando poi siamo passati in queste situazioni poi ne siamo poi usciti e quindi ci si dimentica i periodi non belli, brutti, difficili, pesanti come questo, questo è un periodo molto pesante, a tutti i livelli non so dove appigliarmi, mi appiglio forse solo ai 90 minuti che mi permettono di sperare che il Milan ci regali delle belle soddisfazioni, delle belle prestazioni, dei gol, riuscire a finire non con due gol subiti per partita, mandiamo il commento dei colleghi e sono tutti colleghi, la Lazio sogna, Milan avanti con Pavlovici, nella ripresa in pochi minuti, Castigliano sedia esaltano l'Olimpico, per i portoghesi entra a pareggia, brividi nel finale, allora non vi voglio leggere questo, ve l'ho letto questo del Corriere dello Sport, mi interessano più le opinioni, parliamo solo di Milan e poi di Sinner, allora andiamo subito con Ivan Zazzaroni, si è vista la mano di Fonseca, questo è fuori di dubbio, la rinuncia per una settantina di minuti a Leao e Teo in una partita niente affatto scontata, ha ridotto sensibilmente le distanze tecniche e fisiche tra le squadre al punto che la Lazio ha giocato meglio, con più coraggio e lucidità, avrebbe meritato di vincere, qui non sono d'accordo perché che il Milan, che la Lazio avrebbe meritato di vincere ha tirato una volta solo in porta come ha tirato una volta solo il Milan, oltre i quattro gol, però rispetto l'opinione, per me no, non meritava di perdere ma non meritava di vincere, però andiamo avanti, il calcio sa essere bastardo purtroppo e il gol di Leao subito dopo l'ingresso in campo ha sublimato l'errore esiziale se si considerano il momento e la classifica, errore condiviso immagino con la società. Quella che nasceva come una battuta si sta trasformando in un sospetto, pur se con i necessari distinguo, la genesi e la prima fase della gestione Fonseca ricordano tante quelle di Rudy Garcia Napoli proprio un anno fa, entrambi seconde o terze scelte del club, entrambi con una gran voglia di incidere in fretta, naturale essendo dei professionisti di livello, entrambi con il supporto e alcune riserve di un management troppo muscolare. Le analogie? Prima cosa l'azzeramento delle gerarchie, che è sempre pericolosissimo, aggiungo io. Seconda, il tentativo di mandare dei segnari forti e chiave alle prime firme, da Quara a Ossi allora a Teo e Leao oggi. Il risultato è stato un Milan assai lontano dalle proprie aspirazioni, il bel gioco. Le cose semplici sono le migliori, per le rivoluzioni c'è sempre tempo. Questo è il commento che vi volevo leggere di Ivan Zazzaroni. Poi l'ammutinamento di Leao, i due giocatori silurati durante il cooling break, non si avvicinano alla panchina. Questo è incredibile. Non ho mai visto una cosa del genere. Leao fuori poi entra e salva Fonseca, dice tutto sport. Ma andiamo, mi interessa anche l'opinione del Corriere della Sera, che adesso vi leggo. Vado sul Corriere della Sera, l'articolo è di Carlo Spasserini, le pagelle di Marco Cherubini e il commento di Alessandro Bocci. Partiamo proprio dal commento del collega, prima firma del calcio. Eccolo qua. Gioco e spogliatoi per Fonseca sempre più difficile. Il Milan pareggia in casa della Lazio, il risultato di per sé non è disprezzabile, ma la strada verso la normalità è lunga e tortuosa. Fonseca, già nel mirino dopo due partiti ai confini della realtà, risponde alla crisi con una mossa rumorosa e sorprendente. Manda in panchina per 70 minuti Teo Hernande e Zeleao, i due migliori. Senza di loro, almeno nel primo tempo, il diavolo sembra una squadra non perfetta, ma cui si possa lavorare. E io sono d'accordo. Almeno corre, lotta, pressa. E i giocatori si aiutano. Il gol di Pavlovich, che diventerà in fretta un leader, regala all'inizio qualche certezza in più ai rossoneri e cancella le poche della Lazio. Nel secondo tempo, però, riaffionano i vecchi errori e la disarmante inconsistenza della difesa milanista. Leao, proprio lui, tira fuori dei guai il suo allenatore. Una sconfitta avrebbe aperto scenari inimmaginabili. Ma lo stesso Rafa e Teo, al momento del Kulimbrek, decidono di dissetarsi dalla parte opposta del campo. E anche questa è una scelta forte, tanto quella di lasciarli fuori. Il pari è una piccola ripartenza, ma Fonseca ha molto da lavorare per ritrovare equilibri e normalità all'interno dello spogliatoio. Io ovviamente mi auguro con l'aiuto dei dirigenti, con l'aiuto di Ibra, che se però in questa partita delicata decide di, ho letto, di andare in vacanza, così c'è scritto, e beh, questo ci lascia molto perplessi, perché è una partita dove tutti dobbiamo essere lì, perché il Milan è riduci da un punto in due partite e lui è proprio il frontman rispetto alla squadra. Quindi vediamo. Il Milan non decolla, dice Carlo Spasserini, anzi resta proprio a terra perché un avvio così lento, il peggiore dal 11-12, complica ulteriormente la rincorsa alla seconda stella, che in questo momento sembra una cosa irreale. una notte che sembra un romanzo thriller, vediamo, poi parla del cooling break, un gesto polemico per la bocciatura, poi Teo dirà di no, di sicuro una scena mai vista, fatto sta che l'orgoglio, che l'orgoglio ha avuto, ferito, ha avuto un effetto di una scossa sia su Raffaele sia su Teo, forse in una delle poche buone notizie della serata rossonera. Si è evitata la sconfitta che avrebbe avuto effetti peggiori, ma c'è molto da lavorare. Poi dice cosa succede dopo. È stata una scelta forte quella di partire senza i due big del calibro di Leao e Teo oltre Calabria, per il peso specifico della serata. Non è una punizione, ma una scelta per il meglio della squadra, ha detto Fonseca. Vediamo i voti velocemente di Marco Cherubini, 6 Mignan, 4,5 Emerson Royal, parte male e poi peggiore, uno degli anelli deboli di questo Milan, Tomori 5, 7 Pavlovich, 4 Terracciano un disastro, 5 Reinders, svogliato e lenti, 5,5 col freno a mano Fofanà, 4,5 Ciukwuezi, ma è pericoloso, 5,5 Loftus Cic, sempre un po' impacciato, 6 Pulisi, ce la mette tutta, Ocafor 5, mi sembra basso il voto Ocafor, 6,5 Musa, 6,5 Teo Hernander, 6,5 Abram, 7 Leao, 5 Fonseca. Questo è il Corriere dello Sport. Andiamo per concludere alla Gazzetta dello Sport, il titolo è già di per sé importante, Milan, pari e caos. Rafa entro e firma il 2-2 con la Lazio, ma con l'altra grande escluso non partecipa al cooling break. Caos Milan, Leao fa il pari, poi Conteo, evano tutti su questo argomento. Vediamo. Vediamo. I nuovi sorridono, i due gol subiti dai rossonieri in ogni giornata. Parla ovviamente anche del discorso del cooling break. Salva il diavolo Rafa, ma con il cooling break, Conteo, è un caso, dice Alessandra Gozzini. Che ci sia o no, che stia seduto in panchina o con espressione glaciale o che segni, Rafa è sempre il centro del Milan. Fa anche notizia che lui e Teo siano rimasti a debita a distanza da Fonseca che nel frattempo approfitta del cooling break per parlare alla squadra. Hernandez la spiega così. Non avevamo bisogno del cooling break, eravamo entrati da due minuti. Questo non è vero perché loro sono entrati che il Milan perdeva 2-1. Il cooling break era, mi sembra, sul 2-2 e quindi avrebbe dovuto eventualmente parlare e dire delle cose diverse da quando era 2-1 a 2-2. E questo mi sembra abbastanza evidente. Tanto è vero che poi, se voi vedete l'immagine di lui che parla con la squadra, poi vedete i due, poi c'è Fonseca che fischia e che da là in fondo dice a Leao qualcosa di stare più avanti. E quindi qualcosa aveva da dire. Quindi in generale non prendiamo. Quando un allenatore, io vado a vedere il basket, quando Messina c'è il minuto di sospensione, che ovviamente c'è più di una volta, non c'è nessun giocatore che se ne sta a 20 metri perché sennò Messina lo prende e lo appende al muro. vediamo poi, vediamo se riesco. Hanno accettato la panchina, sento che tutto il Milan è con me, dice il buon Fonseca, vediamo i voti, vediamo chi mette i voti, Bianchini? No, Ramazzotti, Ramazzotti mette, Fonseca 6, voto alto, esclude Fernandez, la difesa fa acqua, 7 leao, 5 Emerson Royale, poi vediamo gli altri voti del quotidiano milanese. Eccoli qua, abbiamo 6 Mignan, 6 Tomori, 6 Pavlovich, 5 e mezzo Terracciano, è una pagella buonista quella di Ramazzotti, 6 Fofanà, 5 e mezzo Ciucvueze, 6 e mezzo Pulici, 6 Hernandez, poi 6 e mezzo Cafor, 7 Abram, 6 e mezzo Loftus Cic, e ripeto, 5 e mezzo Rinders e 6 Fofanà. Questa è la pagella di Marco Guidi. Direi che è tutto per questa rassegna stampa, se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pelegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione.